Il 50% delle sere cinesche sono ormai abbassate, tante le insegne che negli ultimi dieci anni si sono spente, ma ci sono tanti altri commercianti che resistono e sono proprio loro a credere che una seconda vita per via Pasubio possa esserci e passi per la pedonalizzazione. A farsi promotrice della richiesta l'associazione Le Formiche, la chiusura alle auto dovrebbe partire nei prossimi mesi con una sperimentazione. L'obiettivo è rivitalizzare una zona che al momento vive fino alle 20, orario di chiusura dei negozi. Sono già 13 gli esercenti pronti a scommettere sulla pedonalizzazione e prendono nuove attività, molte di queste del segmento food, come una pescheria che di sera diventa frigitoria, una paninoteca a tema Marvel, un pastificio che a mezzogiorno a cena preparerà primi piatti o una pasticceria dove si terranno anche corsi di cake design o di dolci rigorosamente baresi. Spostare un po' di movimento non solo in centro ma anche qui nel quartier Carrassi. Alla fine di giorno va bene ma dopo le 19 diventa un po' un comprifuoco statico, fisso, giornaliero. Lei è proprietario di una solumeria ma avrebbe già l'idea di creare un nuovo punto vendita qui in via Pasubio? Di cosa? Una norcineria. Vorremmo proporre i nostri prodotti non solo al servizio cartaceo e take away ma anche un servizio al tavolo. Vogliamo iniziare a far rinascere questa strada, a renderla un po' più commerciale, un po' più attiva soprattutto. Vogliamo che almeno questo tratto di strada sia pedonale, almeno penso io. Lì è già pronto a mettere tavolini, però Fì è la granita più buona della città? Io sono sempre pronto a tutto e posso mettere granita, tavolini, tutto quello che voglio. Darebbe anche un valore aggiunto a quella che è la strada principale, Corso Mevetto Croce, che è un quartiere che vive fino alle 20 di sera, dopodiché diventa un mortorio. L'associazione è pronta anche a formare un consorzio per la gestione dei tavoli esterni offrendo posti di lavoro a chi è in condizione di disagio.